la produzione dell'isola dei famosi 2022 anzi per essere più precisi il social media manager della trasmissione ha deciso qualche ora fa di prendersi bonariamente gioco di lori del santo una delle concorrenti di questa edizione del reality di canale 5 che lo scorso 7 giugno è costretta ad abbandonare il programma in base alla versione ufficiale del suo staff chi si occupa della comunicazione di lori del santo sui social ha infatti commesso una gaffa in buona fede della quale si è parlato per una giornata intera soprattutto su tweet un'occasione davvero gustosa per fare un po di sana ironia su di una vip già di per sé piuttosto stralunata lo scorso 8 giugno poco dopo essere stata eliminata dal televoto all'isola lori del santo per essere più precisi il suo profilo instagram ufficiale aveva infatti iniziato a commentarsi i suoi stessi post il profilo della ex isolana aveva iniziato a scriversi da solo parole molto lusinghiere di incoraggiamento e di apprezzamento dando vita ad una serie di scambi instagram dai tratti surreali all'inizio si pensava che fosse stata la stessa lori del santo a scrivere alcuni dei commenti apparsi poi però è emersa la verità chi sta dietro al profilo della del santo ha specificato che la subret non centrava nulla in tutto quello che era successo quando i commenti sono apparsi infatti l'ex naufraga era ancora in hondura se non aveva accesso al proprio telefono lo staff ha spiegato che si è deciso di recuperare i direct ricevuti privatamente e di ripostarli in forma di commenti una scelta che ha però generato un'altra gaffa visto che i nomi degli utenti che li avevano inviati non sono stati censurati ma non finisce qui alcuni hanno fatto notare come alcuni dei messaggi fossero un po diversi dai commenti pubblicati un gran bel caos che ha rappresentato un'occasione d'oro per la produzione lori del santo ha rappresentato un'occasione d'oro per la produzione la mia ammica Gillia vwarz� la mia ammica Gillia vaffa oggi ne ricostante un'occasione d'oro per la produzione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.